Vincenzo Moruso è un ragazzo che è cresciuto qui a Crotone, su queste strade, e vorrebbe farlo attore. Ci sta provando e sembra che qualcosina lo sta facendo. Partendo dal cortometraggio Out Out, con regia di Matteo Ghisleri. Sì, Out Out è un cortometraggio che abbiamo fatto io e Matteo, l'abbiamo provato insieme. E' stata una cosa molto, non molto leggera, ma molto soft. Però è andato così bene che non ci aspettavamo. Abbiamo ricevuto parecchie critiche positive e speriamo che in futuro le abbiamo ancora. Tra cui una menzione d'onore presso un festival del cinema greco. Quindi Crotone e la Grecia ancora così vicine. Sì, sembra che appena vedono Crotone penso subito alla mena grecia, ma è stato perché noi l'abbiamo mandato lì e all'improvviso abbiamo vinto e quindi questo diciamo che mi fa più onore perché Crotone è nata dalla Grecia, per cui sono molto contento. Cosa c'è nel futuro di Vincenzo Moruso? Beh, io cercherò sempre di andare avanti, di portare Crotone sul grande schermo dopo tanto, tanta esperienza come attore, raccontando solamente le cose positive di Crotone, che Crotone merita di essere raccontato al mondo perché ci sono tante storie che vanno raccontate. E qualcuno, tantissimi anni fa, questo l'aveva capito ed è venuto a girarci parte dei suoi film, parliamo del bolognese Pierpaolo Passolini. Sì, Passolini, beh, io l'ho amato sempre come regista ma soprattutto come scrittore perché non si abbassa a molte cose. Lui ha una sua visione dell'arte e spero un giorno di interpretarlo. Beh, io li ringrazio perché Crotone mi ha dato moltissimo, anche se non sembra, mi ha dato moltissimo, soprattutto il mare crotonese mi ha dato tanto, le persone, gli amici, ma penso che noi meridionali abbiamo anche l'arte dentro e quindi non dare importanza alla mia città sembra un po' egoista, ma credo che Crotone sia uno dei posti più belli del mondo. Io ringrazio soprattutto, ringrazio Matteo per avermi chiamato e spero di fare altri cento film insieme a lui. Cercherò di dare sempre il massimo in quest'arte, ma in qualsiasi cosa che farò e grazie a tutte le persone che mi stanno vicino e spero di fare sempre il meglio un futuro.